Per la festa del patrono dei giornalisti San Francesco di Sali incontriamo Marco Ostoni che è capo servizio interni e esteri al Cittadino di Lodi, un quotidiano cattolico ed è anche collaboratore di aggiornamenti sociali. La prima domanda è con l'avvento delle nuove tecnologie, internet su tutti, come cambia il giornalismo? Questa è una domanda che per poter dare una risposta ci vorrebbero probabilmente delle ore e quindi in estrema sintesi si può dire che siamo in una fase di cambiamento strutturale della professione, del mestiere di giornalista. Come scriveva sul suo blog Padre Spadaro, Gesuita Direttore della Cività Cattolica, oggi un po' tutti siamo giornalisti, nel senso che il passaggio a internet e soprattutto la fase che sta vivendo oggi il web, e quindi quella dei social network, hanno di fatto trasformato il giornalismo dal giornalismo broadcasting, cioè della trasmissione delle notizie, al giornalismo dello sharing, quindi della condivisione. Oggi un po' tutti cercano di dire la propria, vogliono partecipare, vogliono intervenire. Per questa ragione anche i giornali stanno radicalmente cambiando la propria modalità di fare informazione, utilizzando la rete sia come fonte, per cui per esempio i brevi lanci di Twitter stanno in qualche maniera, se non sostituendo, comunque integrando le tradizionali agenzie nella raccolta delle informazioni. E lo stesso dicasi per social network importanti, in particolare come Facebook. Quindi da un lato utilizzano questi strumenti come fonte, dall'altro li utilizzano come canali attraverso i quali arrivare a un pubblico, soprattutto un pubblico giovane, che è quello che la carta stampata fa fatica a leggerla perché non la conosce, perché non c'è più quel passaggio che c'era soltanto vent'anni fa, no? Io penso quando si andava alle scuole superiori si comprava il primo giornale. Oggi i ragazzi a 15 anni sono già abituati ad avere il telefonino come minimo da 4-5 anni, quindi a utilizzare strumenti di accesso al web e quindi alle informazioni straordinariamente più rapidi, più veloci e con i quali entrano in contatto presto con l'universo dell'informazione. Quindi oggi c'è tanta informazione e la sfida è quella di fornire degli strumenti, delle griglie, dei filtri per raccoglierla, per raccogliere l'informazione, e quindi per scremare ciò che non serve e farsi un'idea. È una sfida affascinante ed è una sfida anche molto complessa.